Guidata dal coraggio di osare, Alleanza Verdi Sinistra è pronta alla sfida delle elezioni amministrative dell'8-9 giugno. Anche a Pesaro lo schieramento politico unirà i simboli di Europa Verde e Sinistra Italiana, come ricordato dall'On. Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra, che al Gra di Palazzo Gradari ha presentato quella che sarà una lista plurale ed aperta, pronta a dare il suo contributo alla coalizione di centro-sinistra su temi specifici, dalla tutela del territorio alla riforma dello sport fino all'inclusione sociale. La giustizia sociale e la giustizia ambientale. Cerchiamo di unire questi due temi e di portarli avanti assieme perché rappresentano le due urgenze che dobbiamo mettere in prima linea. I temi sono quelli ambientali, sociali e ovviamente il nostro punto di forza è riuscire a parlare ai giovani, riuscire a portare le politiche sempre più sostenibili sul tavolo della trattativa delle amministrative e chiaramente siamo qui per cercare di vincere. La gestione pubblica dei beni e dei servizi delle partecipate, quindi la governance di queste società, il ritiro immediato del progetto di discarica a Riceci. Altra questione è l'emergenza a casa. Non è più rimandabile affrontare questo problema che coinvolge gran parte della popolazione e le persone a cui facciamo riferimento, che sono quelle che fanno fatica a arrivare a fine mese, fanno fatica a trovare una casa in affitto. La questione del trasporto pubblico, quindi un trasporto pubblico gratuito, noi proponiamo almeno con un biglietto climatico a 9 euro al mese che possa essere, oltre che un incentivo, anche una misura di giustizia sociale. Obiettivi elettorali presentati anche da Sabrina Santelli e Maria Rosa Conti che per Europa Verde sono rispettivamente portavoce regionale e assessore comunale a Pesaro. Interventi seguiti di persone anche dal candidato sindaco in pectore Andrea Biancani e dal segretario comunale PD Gian Piero Bellucci nell'ottica di un dialogo di coalizione. L'astenzionismo è un punto dolente di ogni amministrazione e di ogni volta che c'è la politica amministrativa e noi vogliamo proprio cercare di fare in modo che tutti i cittadini abbiano fiducia in noi, abbiano la trasparenza del dialogo e riusciamo a dialogare e a portare tutti i problemi di Pesaro sul tavolo delle trattative. Osare è la nostra parola d'ordine d'ora in poi perché noi vogliamo osare nella trasparenza e per dare fiducia ai cittadini che ci devono credere e devono credere in noi.